Aparizione supernova nella costellazione Fai. Nucleo propulsivo. Nuovo Fai, 750 eni. Novità strutturali della supernova. Nuove sostezioni Omega, nuove interni, nuova dissonorizzazione. C'è qualcosa di familiare. Velocità di spostamento. 140 km di orale. Distanza supernova. Quella per voi è il concessionario Pia. Ma, a occhio Ludo, come si presenta? Panda supernova, la nuova stella nella costellazione Fai. Sise la mortadella. Guciare, sapore, assaggiare, sapore. Sise per te. Assaggiare, stuzzicare, assa... Saporare. Sapore. Gustare. Sise, buona mortadella. Sise. Gambari, gira al ritmo del tuo tempo. Gambari, gira sempre insieme a te. Gambari, gira al ritmo del tuo tempo. Gambari? Sola! Gambari, gira al ritmo del tuo tempo. Sola! Philips Hi-Fi Stereo. Salta su anche tu. E video registra Hi-Fi. Philips video registra Hi-Fi. Salta. Salta su anche tu. Papagi, gira al ritmo del tuo tempo. Isa! verschied troppo del tuo tempo. Pagari, giochi. Impatti, sanitaria di Fa Sori. Vers Squadola giro. I t' critical hop British vuruto. goalie. player airAU. Tè Star, una tazza di tè, una fetta di mondo Tutto è grande nelle grandi buste arena Come questi piselli, sceltissimi e teneri Ed è grande anche la convenienza nelle grandi buste arena Grande la qualità, grande la convenienza Sempre un po' di più, arena ti dà Come in You're Blackjack, sir Blackjack, malt o blended, sir? Malt, Edward, please Blackjack, malt, sir You're a whisky A first class whisky, Blackjack Blackjack, malt o blended Whisky di sangue blu Invecchiato e imbottigliato in Scozia One Let's see